buongiorno a tutti e benvenuti al sesto spacchettamento crazy edition e oggi andremo a caccia di questi qua con un unico spacchettamento mappando ai pifferi alle tube e ai saxofoni con tutto il rispetto per noi sappiamo che andiamo subito direttamente al primo spacchettamento andiamo subito all'unico spacchettamento mi sembra più diciamo più più che giusto dire così se si sbrogna questo aggiornamento catalogo negozio puttanaccia miseriaccia grazie mille e che vedevo di perfetto no 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 oh ma che so erano bestemmie è da mezz'ora che sto facendo partire colpa digitale non attiva ma facciamo subito lo spacchettamento schiaccio x e che mi salta fuori perché tutti i russi tutti i russi mi saltano fuori ma chi sei portiere vai notte forte questo mio questo mio questo mio questo mio mio vai liga del lancere vabbè non cazzo state comunale scelta vivo bello questo ah però e che maglietta io ho? quasi mi sposto questa oh bello non manco visto di che cazzo di squadra era però molto bello ma andiamo e questo sono fatto scatto a tutto dando 948 credit oh no pe 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 quanto? ti vendo a 250 in via oh ehi cocorin quanto 12.000 12.000 vediamo 12.000 allora 200 300 in via vai gomez 14.000 mi sa che uno l'ho già venduto 14.000 perfetto andiamo a via e invia ok questo 80.000 80.000 questo faccio prima a scarparlo yeah bisogna vedere chi ho venduto perché mi sa tanto che ho venduto qualcuno perché mi sono andati sui soldi esattamente e ho venduto subito cocorin perfetto fuori dalle palle niente ragazzi per oggi l'episodio è finito ci vediamo alla prossima ciao ciao